amici di quarta parete sono qui facendo un po di capriole qui al teatro dei servi dopo avervi raccontato la stagione del teatro ambraio vinelli e sono con due persone e due facce amiche insomma io mi permetto di definirle così l'allegria in persona non so chi più chi meno ma insomma francesca nuzzi marco simeoli è sempre un piacere stare con voi e io sono qui perché voi ci ralleggerete speriamo nel corso della stagione con uno spettacolo che si chiama tutti grandi amori in 90 minuti insomma impegnativo ragazzi è perché si condensarli non sarà facile certo certo insomma speriamo che non ci siano i tempi supplementari no no pareggeremo non pareggeremo non pareggeremo qualcuno vince allora partiamo dalla storia sì passando anche per il pop contemporaneo perché si parla di iogono e john lennon si lo faremo un po tutti diciamo tutti insomma lo spettacolo appunto scritto e diretto da claudio pallottini ci vedrà in scena insieme a francesca insieme anche ad un altro bravissimo attore che thomas santo e noi appunto attraverseremo le coppie più celebri della storia insomma sì in ogni dove in ogni dove guarda da anita e giuseppe garibaldi da gabriele d'annunzio e la duse poi ovviamente ci saranno anche come detto iocono e john lennon insomma tanti insomma tanti personaggi tossissimi che era francesca mamma mia speriamo che i ragazzi studino la storia vera perché se no ecco stavo pensando alla figura di iogono non la voglio di che figura è lasciamo perdere la figura di iogono mi metto di spalle potremmo molto cambiarci perché effettivamente insomma ma dobbiamo ancora capire probabilmente non sarà noi non siamo degli imitatori siamo degli attori quindi li faremo diciamo a modo nostro cogliendone il gusto cogliendone le caratteristiche le sfumature e raccontando l'ironia raccontandole a modo nostro sulla scia ecco perché i 90 minuti di una cosa che ci è appartenuta per tanti anni che erano appunto gli spettacoli 90 minuti dei picari i famosi picari ma ritorneranno questi picari ma francese torneranno ecco se volete ce ne so due in mezzo due ci sono sicuro allora voi sarete scena dal 15 al 31 maggio se le informazioni sono corrette sì 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 e beh perché noi che diciamo continuiamo a essere coppia diciamo nella scena saremo impegnati diciamo stagione prossima come tu sai in aggiunge un posto a tavola e dove anche in ogni dove praticamente così poi anche ad aprile in un'altra simpatica parentesi al teatro dino manfredi ma non anticipiamo parliamo dei servi io al globe adesso si col sogno di una notte di mezza estate è un falso magro allora ragazzi quindi tutti i grandi amori 90 minuti francesca nunzi marco simioli regia tua no regia e doppia diretto da claudio pallotti allora questa è una tradizia falsa e tendenzione sì sì infatti no 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 perché inizialmente perché inizialmente c'erano delle diciamo bisognava ancora decidere una serie di cose invece lo spettacolo è stato scritto da claudio diretto da claudio pallotti e c'è il nostro domi giovane ci allevierà un po diciamo perché i 90 minuti ormai questi spettacoli di ritmo ormai noi abbiamo una certa età e una volta era facile se erano tutti di ritmo allora abbiamo pensato che ci voleva qualcuno che alleviasse un po' la nostra stanchezza un giovanotto fresca gioventù fresca gioventù fresca gioventù francesca grazie marco grazie e in bocca al lupo in più di 90 minuti grazie grazie grazie